Rete fognaria non idonea, il distretto sanitario 61 di Angri rischia la chiusura. L'episodio dell'allagamento della scorsa settimana, con il momentaneo dirottamento dei servizi del 118 e soprattutto della Guardia Medica nella sede della Croce Rossa di Via Colombo, ha di fatto riportato alla luce un problema già da tempo posto in evidenza dal direttore responsabile del distretto Grazia Gentile e dai vertici dell'Asda di Salerno. A preoccupare più di tutto è il menefreghismo della Gori, l'azienda deputata a effettuare gli interventi necessari per ammodernare l'impianto fognario presente vicino al fondo Rosa Rosa in Via dei Goti. Più volte la Gori è stata infatti sollecitata a intervenire per risolvere il problema o quantomeno prendere visione dello stesso. L'ASL, i dirigenti del distretto 61, insieme al già sindaco Pasquale Mauri prima e adesso con il neoprimo cittadino Ferraioli, hanno scritto alla Gori affinché effettuassi un sopralluogo e subito dopo un intervento tecnico urgente per la deviazione dello scarico dell'impianto di sollevamento di fondo Rosa Rosa sul vicino tratto fognario di Via dei Goti e non più in Via Papa Giovanni XXIII. La goccia, anzi l'acquazzone, proprio il caso di dire, che ha fatto traboccare il vaso della questione e allagare la sede del distretto è avvenuta lo scorso venerdì. Gli uffici sono stati chiusi a causa dell'allagamento, come si diceva, con il trasferimento dei servizi di cui prima nella sede della Croce Rossa. La Gori non si è presentata neanche quando sono stati effettuati i lavori di bonifica della sede. Ci si chiede, e se la pioggia fosse arrivata durante la settimana e non il venerdì, cosa sarebbe accaduto? Di certo, il direttore Gentile, forse, avrebbe dovuto chiudere il distretto con conseguenze ben immaginabili per i circa 40.000 utenti che afferiscono al distretto 61 che eroga servizi sociosanitari non solo per il comune di Angri ma anche per Corbare e Sant'Egidio oltre ad erogare i servizi di guardia medica 118. I vertici del distretto 61 hanno evidenziato in una nota che sono adesso afferenti oltre 3.500 minori di età, di cui 512 bambini diversamente abili, oltre 7.000 anziani over 65 anni, 4.100 di questi con disabilità, 1.500 soggetti diabetici, 212 malati di cancro. Quasi 7.000 utenti sono afferenti agli ambulatori distrettuali per visite specialistiche, 7.500 al servizio CUP Ticket e rilascio esenzioni. Insomma, numeri che dovrebbero in qualche modo smuovere le acque e le coscienze di chi finora ha dormito sul problema. Adesso la palla passa alla Gori, ancora una volta sollecitata. L'azienda che gestisce le risorse idriche in Campania, da sempre nell'occhio del ciclone, resterà ancora in silenzio o finalmente si preoccuperà della questione?